Sì ce l'abbiamo fatta e abbiamo lavorato tutta la settimana per giustamente portare i tre punti a casa perché comunque è una partita importante per i nostri tifosi ma soprattutto per la classifica e poi mettendo tutto quello che ci ha chiesto il mister alla fine abbiamo vinto e è una cosa cosa molto positiva diciamo il morale fa bene poi comunque anche per la classifica ti porta avanti e comunque una bella soddisfazione non dimentichiamo che una grandissima squadra sta sorvolando così il campionato quindi ci sta di prendere magari un gol ma poi ci siamo abbassati troppo secondo me nell'ultimo quarto d'ora e ce l'abbiamo pagato subito perché c'erano dei grandi giocatori ma l'importante è ritenere i tre punti e ce l'abbiamo fatto mi sento bene poi comunque conosco già la piazza la società è sempre stata una società che dà fiducia ai giovani e comunque ci hanno delle personalità dentro che lavorano molto bene siamo noi adesso in campo di dare il massimo per poter poter fare crescere sta nuova società diciamo perché non è più quella di tre quattro anni fa e quindi dobbiamo lavorare tutti nello stesso senso per portare il bologna il più alto possibile